Abruzzo, terra di eccellenze, strategie di rilancio, turismo e agroalimentare. Di questo si è parlato all'Aquila, presso la sala ipogea del Consiglio regionale, incontro promosso e organizzato dalla Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, in sinergia con Intesa San Paolo e con il patrocinio della Regione Abruzzo. Idee e confronti con rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, in un periodo che lascia ancora qualche incertezza, ma che di certo non affievolisce lo spirito di Rivalza per completare la fase di rilancio e ripartenza. È un convegno, a mio parere, una sorta di stati generali che abbiamo voluto organizzare, deve essere una giornata di pensatoio in qualche modo, insieme alle istituzioni, vorremmo così vedere quali sono le migliori strategie da mettere in campo insieme e quindi è un po' una sorta di chiamata alle armi che ci siamo permessi di fare per creare un coordinamento per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda l'agroalimentare e quant'altro e quindi vediamo cosa ne viene fuori. In questo periodo particolare, lo ho accennato prima, è difficile questo matrimonio, cioè far conciliare una sorta di rilancio con tutto quello che concerne ovviamente la pandemia perché diventa ancora più dura. Diciamo che siamo in un momento di ripresa, per cui lo sguardo è comunque uno sguardo sereno, positivo, sapendo che abbiamo in qualche modo alle spalle superato il momento più brutto, non è ancora terminata, però i segnali di ripresa anche del PIL sono chiari, i numeri sono positivi, per cui io in questa chiave direi che possiamo affrontare il nostro oggi e anche il nostro domani. Intesa San Paolo per e con il territorio, anche in futuro? Guardi, dopo l'integrazione con UBI, Intesa San Paolo è il primo operatore bancario di questa regione, quindi evidentemente sentiamo forte la responsabilità di essere di supporto alla fase di ripartenza. Quindi noi ci siamo, anzi le dico, ci siamo e come.